si è riuscito a scrivere se ne accardi e non tratta di più ma che fare la fine e non è che lo posso dare a fare e mi faccio vedere rotondi come se li facessimo un posto man mano che vai fermo, puoi porto, fermo, puoi cazzo, fermo delle mani vai e non si muoce per te, non ci sono molto Allora, fanno una bella prima creata, l'ho visto che gli aspettavano che non stanno arrivando. Sì, l'ho visto che gli aspettavano, è lento, è lento, è lento, è lento, è lento, è lento, è lento. Sì, a non fare proprio un uomo. Sì, a non fare proprio un uomo, è lento, è lento, è lento, è lento, è lento, è lento. Sì, a non fare più. Grazie a tutti